Si dovrebbe tornare in classe alle superiori dal prossimo primo febbraio, ma i dirigenti scolastici sono ancora in attesa di un'ordinanza che ne chiarisca le modalità. I numerosi sono i nodi ancora da sciogliere. Innanzitutto per quanto riguarda la percentuale della popolazione scolastica in presenza. Sarà il 50 o il 75%. Inoltre ci sono gli orari scaionati previsti dal prefetto relativamente alla possibilità di rispettare con tale modalità ulteriormente il distanziamento sociale. Sono state previste due fasce orarie per tale scaionamento, cioè le 8 e le 10. Questo è quello che si sa, ma numerosi, troppi sono ancora gli interrogativi che pone questo tipo di organizzazione. Innanzitutto l'orario scolastico dei docenti a scavalco tra varie scuole che indurrebbero ad una modifica degli orari già stabiliti dall'inizio dell'anno scolastico delle varie scuole. Inoltre il rientro in sede degli studenti pendolari. Per una scuola per esempio come il Giovanni XXIII dove più dell'80% della popolazione scolastica entrare alle 10 significherebbe uscire alle 16 quando si svolgono le 6 ore e di conseguenza poi rientrare molto più tardi nelle proprie residenze limitando di fatto non solo le attività extracurricolari che in questo modo si dovrebbero interrompere ma soprattutto anche il resto delle attività sociali dei nostri ragazzi. Quindi si era previsto come soluzione di elaborare delle fasce orarie che prevedessero un ingresso alla prima ora e uno alla seconda ora al massimo quindi 8-9. Ciò consentirebbe di gestire un pochettino meglio anche gli orari dei trasporti che ci sono stati comunicati solo per una parte delle linee degli autobus dal provveditorato a seguito di comunicazione del prefetto. A questo si aggiunga anche il tracciamento per il personale scolastico che sarebbe auspicabile nella settimana precedente l'inizio delle attività. Le scuole sono pronte e desiderose di accogliere gli studenti ma sicuramente con modalità organizzative che siano rispettose della organizzazione delle scuole già prevista precedentemente e della vita dei nostri studenti.